Iscrivetevi al canale e metteteci un like, suonate la campanella e taggateci su Instagram. Vi voglio bene, ciao! Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, voglio farvi... cosa c'è? Cosa? La mamma oggi non è sola! Neanche nell'ultimo video. Allora, stavo dicendo bentornati sul canale. Oggi video vi voglio far vedere... Vuota la crema? Bravo, esatto, potremmo chiamarlo così. Allora, qua dentro ci sono un sacco di maschere, di campioni, di crema che mi ha regalato una mia carissima amica. Una mamma di un mio amico. Esatto. Ciao Elena, ti mando un grosso bacione. E voglio farvi vedere. Su Instagram avevo già postato la crema per le mani, che è fantastica. Allora, vi dico, fermo perché sennò trema tutto, perché è sul cavalletto il telefono. Se siete interessati a questi prodotti, sotto in descrizione vi lascio il link alla sua... Scusate, ma ce n'è una, c'è una mosca che continua a girare da fastidio. Allora, vi lascio nell'info box il link per arrivare alla sua pagina Instagram, per poterla contattare nel caso in cui fosse interessata a queste maschere. E poi, piano piano, le proveremo insieme su Instagram. Io per ora non le ho ancora provate perché ha fatto veramente caldo e non ho voglia di andare a mettermi cose sul viso. Per cui, man mano andremo avanti col tempo, sì, arriva l'autunno finalmente, e andrò a provare questi prodotti. Io adesso comincio a svuotare e farvi vedere tutto. Sì, questo pacone è già fatto vedere. Allora, questo è tutto il mio bottino. Sì, ok. Adesso Mauro ci passerà le cose piano piano. Dai, iniziamo. Una alla volta queste. Allora, questa... È da sette anni? No. Allora, si chiama... Toner Lotion Essence. Andiamo a leggere l'italiano, se c'è che è meglio. Allora, tonico più lozione. Vediamo, eh. Ecco qua. L'opzione Essenza per te che sei una donna risoluta ed è successo con iris e gelsomino. Allora, modo d'uso applicare sulla pelle pulita, mettere una quantità di prodotto su un dischetto di cotone, distribuirla delicatamente sulla pelle del viso. Poi, divertiti, non necessita di risciacquo. Questo qua sarà da provare. Allora, questa si può aprire tagliando qua, oppure, siccome ce n'è dentro tanto, hanno pensato di fare anche il beccuccio col tappo e secondo me è una bellissima cosa perché c'è dentro davvero tantissimo prodotto. E queste qua sono creme e maschere della Seven Days, non so se ne avete già sentito parlare. E sono bellissime anche proprio il pecc. Hanno delle confezioni bellissime. E questo è il primo, che era un tonico, abbiamo detto. Ah, aspettate. Poi, cosa c'è? Questo cosa che è in mano, è un disco della PlayStation. Sì, va bene. Dai, passamene un'altra. Questa, sempre della stessa linea di queste qua, col beccuccio. E si chiama Intergalactic Chic. Hanno anche dei nomi veramente bellissimi. Allora, questa è una maschera peel-off, di quelle che si applicano, si lasciano asciugare e poi viene via tutta la pellicola. Non sto a leggervi tutto, però giusto per capire. Allora, vediamo se riesco a leggere. Dov'è? Maschera detergente peel-off con polvere di carbone dal cuore della galassia. Bellissima. Queste qua saranno tutte maschere che farò. E qualcuna le farò anche a mio marito, perché mio marito adora farsene fare. Non ci crederete, ma lui ama fare i massaggi, maschere, tutte queste cose qua. Quindi, questa è un'altra buonissima, sicuramente. Poi le proveremo insieme, perché penso che le pubblicherò comunque su Instagram. Poi? Poi c'è questa che si chiama Moistruzing Face Mask. Ok. Allora, Big Girls Don't Cry. Ah, bello, c'è il cuoricino che piange. Allora, anche questa con il suo dosatore. Allora, maschere idratante per il viso, per te che sei stanche e faticata con bambù e cetriolo. Questa qua è la mia. Sicuramente la farò per me. No, ma guardate, le confezioni bellissime. Mi piacciono un sacco. Questo è il mio sederino. Aiuto. Poi? E poi questa si chiama quella che mi fa dormire. Dai. Face Sleeping Mask. Face Sleeping Mask. Eccola qua. Bellissima anche lei, in questa tonalità di blu e fucsia. Allora, maschera notte per il viso, per te che non hai fretta e va bene così, con latte di asina. Wow. Vediamo. Per riposare nel modo giusto ci vuole una maschera. La maschera idratante con latte di asina. Svolge un'azione riparatrice e l'ennitiva per la cute, mentre tu riprendi le forze. Al mattino la tua pelle sarà morbida ed elastica, fresca e rilassata, come dopo come una vacanza e non è un sogno. Non necessita di risciacquo. Applicare sulla pelle pulita, distribuire la maschera sulla pelle del viso, con un leggero massaggio e ora letto. Fantastico. Proveremo anche lei. Poi iniziamo con un altro tipo di maschera. Questa è bellissima, azzurra. No, ma allora, guardate il pack di queste maschere. Cioè io le adoro. Elena, grazie, perché non hai idea del regalo che tu mi abbia fatto, perché io adoro tutte queste cose. È bellissima. Allora. Il sfumatore in viola. È bellissima. Questa qua potrebbe essere della Giorgia, perché sono i suoi colori, il nero, il viola. Allora, questi credo proprio siano per gli occhi. Andiamo a vedere dietro. Infatti, patch, occhi, idrogel, amerletto, per gli animi più delicati, con estratto di caffè. Fantastico, con l'estratto di caffè. Sono tonificanti, quindi, no, guardate. Allora, qua sento che c'è qualcosa di plastica, quindi suppongo che ci sento come una scatolina per contenere poi i patch. E anche questa è una cosa assolutamente da provare. Poi, cos'altro c'è? E poi c'è questa, aspetta, prima dico il nome. Sì, ma falla vedere. Detox Face Mask with Acid Glassing Complex Bye Bye Ai Problemi Happy Skin. Ok, eccola qua. Questa abbiamo capito che è una maschera detox. Pele felice. Eccola qua. Allora, maschera viso. Stai fermo, Mauro, per favore, perché fai tremare tutto. Certo. Maschera viso detossificante con complesso acid più purificante. Allora, contiene acidi diffruttativi più acido glicolico, lattico, acido malico, acido tartarico. Poi, maschera, ah, è un esfogliante, rimuove delicatamente le cellule morte, l'acido glicolico contenuto nella maschera rende la pelle elastica, idratata e luminosa. Bellissima anche lei. Vediamo le altre. Questa è la maschera della mummia, come potete vedere qui. Eccola qua, bellissima, ma sono bellissime veramente. Allora, maschera viso con estratte di alghe in muschio islanda. Allora, mi state alghe regalano alla vostra pelle una sensazione di freschezza, le arricchiscono con preziosi componenti, ne aumentano il tono e l'elasticità. Bellissime. Non vedo l'ora di provarle. Cioè, sono veramente... Ecco, queste sono tutte in tessuto, eh. Questa, anche questa, sì, perché sento che queste sono in tessuto. Poi c'è questa, mostro, face mask with a square, complete real water, boom, felice. Avete capito? Bellissime. Ecco. E con un'altra sempre. Della stessa donna. Sì, in tessuto. Maschera viso idratante. Mauro, fermati, continui a far tremare tutto. Scusa. Maschera viso idratante con complesso acquaxil. Allora, il complesso idratante acquaxil contenuto nella maschera ripristina l'equilibrio idrolipilico della pelle, elimina la disquamazione. L'acido ialuronico ridona alla pelle l'elasticità, la rinforza e tonifica. Fantastico, mamma mia. Cioè, devo provarlo assolutamente. Passami l'ultima. Questa rosa che non è adatta alla Georgia perché a lei non piace. Questa qua è bellissima, per persone ambiziose. Bellissimo perché ogni maschera descrive perché può andare bene. Allora, questa maschera viso idrogel a merletto per i tipi più riservati. Ah no, scusate, perseverante con estratto di fave di cacao. Bellissimo. Mi piacciono un sacco per la pelle spenta, questo. Poi ci sono queste tre. Adesso ci sono dei campioncini. Dammi le insieme. I piccoli, questa. Poi mi ha dato questi campioncini. Questo è bagnoschiuma delicato e shampoo per Mauro. Poi questo shampoo rinforzante allo zafferano. della linea Arganie, Arganie, non so come si legge, e shampoo all'Argan, pH 5.5. Queste sono due, queste sono tredici. Allora, queste, aspettate, perché queste le avevo divise ma me le ha mischiate di nuovo tutte. Poi ho queste, della Clarins. Dunque, crema giorno antirugher assodante per tutti i tipi di pelle. Allora, queste le ho già provate, ne ho già provate un paio di bustine. È davvero buona, non lascia la pelle unta e neanche appiccicosa, nonostante questi giorni di caldo. Quindi, questa per me è già promossa. Poi abbiamo, della Roche-Posay. Roche-Posay. Vediamo. Allora, mattina e sera. Applicare mattina e sera su viso e collo. È per le rughe, questo. Ovviamente è cinese. Ed è rimpolpante. È cinese perché ho scuse. No, che cinese. Ma va, non è cinese. Poi c'è questo scrub vegetale, l'olio di semi di fico d'India bio. Ecco qua. E poi ho questi tre latte di pulizia ultra delicato, sempre della stessa linea. E questo peeling a base di olio d'argan biologico. Ecco qua. Puoi fare quello faccio. Poi. Allora, questa è una crema viso a base di olio di semi di fico d'India. E ne ho una e due. Poi c'è questa crema viso all'olio di canapa. E sono altre due. Poi c'è la crema viso allo zafferano che è della stessa linea dello shampoo che vi ho fatto vedere prima. Questa qua mi piacerebbe provare per sentire se sa davvero di zafferano. Poi crema giorno all'olio di argan bio. Ecco qua. Poi c'è questa Carmen crema viso per pelli sensibili contro gli anestesismi della pelle con cupe rose con olio di argan. Ecco qua che si vede un po' meglio. E poi c'è questa che è l'ultima che è l'ultima che è una crema bellissima. notte l'olio di argan. E questo è tutto il nostro bottino. Adesso rigiriamo. Allora, vi abbiamo fatto vedere tutte le maschere, tutte le cremine che mi ha regalato per provare questa mia amica Elena. Sono davvero felicissima. Non vedo l'ora di provarle tutte. E guardate qua. Cioè sono veramente tantissime e io sono stra felice. E niente. Noi vi salutiamo. E questo video si conclude qua. Taggateci e seduti su Instagram. Mettete 400.000 like se sei d'accordo. e iscrivetevi al canale. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Mua.